questo è il corso che deve sentire come lo fa questo è il corso qua, dai non lo apriamo 3, 1 3, 1 3, 1 3, 1 3, 1 3, 1 4, 1 4, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1